Prendiamo la linea dallo studio per la seconda corsa di Foggia, condizionata per tre anni i vincitori da 2 a 10.000 euro in carriera saranno in otto al via dopo il ritiro di Dubai Jet che si sarebbe dovuto avviare con il numero 4 e ne restano quindi 7 in prima fila e 1 in seconda fila Dangerous Glory, Desideri, Duelgar, Delirio, Duribajet, Don Lurio e Donald LP in prima fila, in seconda fila Dark Shadow che al momento sembra avere qualche problemino d'impiego prima di andare dietro il mezzo meccanico, vanno via quelli della prima fila, macchina sul rettilineo pronta per lasciare i concorrenti, parte piano Duelgar. Dal centro dello schieramento, Duribajet con all'esterno Don Lurio e Donald LP, poi Dangerous Glory. Duribajet in vantaggio cerca di contenere l'arrembante Don Lurio, Don Lurio che appariglia l'avversario al paletto dei 200 di gara in 14 a 6, insiste Don Lurio all'esterno di Duribajet, i due seguiti da Donald LP che si è appostato lì allo steccato, alla fine Don Lurio tiene il via libera dalla condiscendente Duribajet, non senza spesa. È leader Antonio Simioli con Don Lurio nei confronti di Duribajet, Donald LP poi Desideri che agisce in anticipo nei confronti di Delirio, a sua volta anticipato da Donald LP, 600 andati via in 44 e 1, Don Lurio in vantaggio, ora all'esterno la sagoma di Donald LP, scia sempre Duribajet all'esterno Desideri, poi Dangerous Glory, 800 in 59 e 9, Don Lurio a rispingere Donald LP, poi Duribajet con al lato Desideri, quindi Delirio che si prepara a venire via in terza ruota all'attacco del chilometro che Don Lurio passa in 15 spaccati e Don Lurio sempre in vantaggio, si migliora Delirio in terza ruota mentre Duribajet rientra a Donald LP, cavalli al completamento dei tre quarti di miglio che Don Lurio passa in 1,30 con un altro paletto in 15, galoppa Donald LP, ha problemi anche Duelgar, Don Lurio in vantaggio, galoppa anche Delirio e così Don Lurio entra con un paio di margine di vantaggio in retta d'arrivo su Duribajet, Antonio Simioli e Don Lurio in chiaro vantaggio affrontano così la retta d'arrivo staccando rispetto a Duribajet, Don Lurio facile alla meta su Duribajet mentre rinviene per il terzo Duelgar, io ho un rotolo in 1,59 con 28,9 ad arrivare Don Lurio, il training di Vincenzo Palumbo, l'azienda agricola di Antonio Simioli alla proprietà e alla guida lo stesso Antonio Simioli per il fio di Pace del Rio e IM Sexy Cup che ha fatto una bellissima prestazione al comando una volta sfilata su Duribajet, sfilato su Duribajet si è reso praticamente intangibile agli avversari, Duribajet diligente alle sue spalle, prende il secondo, Duelgar dopo lo svarione sull'ultima curva, prende il terzo e così transitano sul palo al quarto e al quinto l'uno di Dangerous Glory e il due di Desideri. Questo è tutto da Foggia, la seconda.